Tutto è possibile a te, dici, perché la preghiera è anzitutto dialogo e intimità, ma è anche lotta e richiesta allontana da noi. Gesù è condannato a morte. Adoramus te Christe, benedicimus divi, qui a per Santa Cruz e tua, re delissimo tuor. Dal Vangelo Gelo secondo Marco, giunsero a un podere chiamato Gezzemani, prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro, restate qui e vegliate.